Sarà la Coppa Italia a prendersi la ribalta nel fine settimana. Campionati di A2 e B di pallacanestro fermi per le Final 8 che prenderanno inizio domani a Iesi per concludersi domenica. In cadetteria tempo utile al Roseto per tirare un po' il fiato, serrare le fila e cercare di raccogliere tutte le energie possibili in vista del rush finale verso la salvezza. Lavoro focalizzato principalmente sul recupero degli infortunati. Lupusor è tornato ad allenarsi in palestra sotto lo sguardo dello staff medico e atletico per cercare di recuperare la forma migliore in vista dell'impegno di domenica 11 marzo, quando al Palamagetti arriverà la corazzata Trieste impegnata nel weekend di Coppa. Coach di Paolo Antonio non può fare a meno di nessuno se vuol raggiungere un obiettivo che rimane difficilissimo ma non impossibile. A sette gare dal termine della regular season, i biancazzurri hanno ancora la possibilità di salvare la stagione attraverso i play-out, anche se le due dirette concorrenti, Orzinuovi e Bergamo, sono a pari punti, 8, e con lo scontro diretto tutto ancora da giocare in casa degli Orobici. Intanto si è chiusa la prima fase del mercato suppletivo in Serie 2. Chi non ha effettuato i tre tesseramenti senior come gli Sharks potrà effettuare un ulteriore tesseramento pescando giocatori della Serie A fino alle 11 di venerdì 30 marzo, oppure mai tesserati in Italia fino a 48 ore prima del turno inaugurale di play-off e play-out. Gettando uno sguardo alle rivali del Roseto, Orzinuovi ha ufficializzato il ritorno in panchina di Alessandro Crotti, dopo l'esonero di Alessandro Finelli, che aveva sostituito dal 31 dicembre il coach della promozione in Serie A2. La società lombarda ha respinto le offerte di 100 per Andrea Scanzi e manterrà nel roster anche Adam Sollazzo, per il quale sembra tramontata l'ipotesi Trieste, non escludendo la possibilità di un reintegro dell'esterno italo-americano con la nuova guida tecnica.